Gentili colleghi, vi presentiamo qua un caso di mola vescicolare e in particolare di mola vescicolare completa. Ricordiamo immediatamente che la paziente vi era la nostra osservazione nel corso della decima settimana di gestazione. Come vedete qui approntiamo l'unico lume di una camera gestazionale che appare evidentemente piccola e come vuole la mola vescicolare l'assenza di embrione o di attività embrionale. Immediatamente ricordiamo le caratteristiche ecografiche della mola completa mentre guardiamo scorrere le immagini. È una massa di tessuto endocavitario, come vedete disomogeneo con la tendenza a essere iperecogeno. L'aspetto nelle fasi più evolute può avere il tipico aspetto a tempesta di neve ovvero multipli spazi cistici a contenuto transonico con rinforzo di parete posteriore da pochi millimetri fino a qualche centimetri. Vedrete successivamente che se usiamo il color doppio i flussi saranno ad alta velocità e bassa resistenza e quindi questa è la caratteristica tipica. Come vedete qui avremo macroscopicamente una massa di tessuto che occupa gran parte della cavità a contenuto ecogeno. Le ovaie possono associarsi a essere particolarmente voluminosa per le stimolazioni della beta HCG anche se in questo caso rileviamo delle ovaie normali. Qual è l'ausilio in questo caso? È proprio questa massa di tessuto che tende a infiltrare oltre la cavità addirittura verso il miometrio che comunque allo stato appare salvo e quindi in questo caso si imporrà un monitoraggio successivo. Vedete il tessuto è ampio, occupa gran parte della cavità. Perché in questo caso abbiamo voluto presentare? Perché a prima chitto sembra una camera gestazionale normale mentre se estendiamo soprattutto per via vaginale vedete come il tessuto tende a essere ampio, ha occupato tutta la cavità. Vedete al color doppler come abbiamo vascolarizzazione che però è periferico alle lacune, alle cisti, non endogeno. Questo è una caratteristica che come già abbiamo detto nella lezione tende a differenziare quello che è la displasia mesenchimale dalla mola che per lungo tempo è stata confusa. Qual è l'ausilio fondamentale in questo caso di mola? È proprio la beta HCG. Ricordiamo che la beta HCG è dirimente nella diagnosi di questo tipo di patologia. La beta HCG rappresenterà quindi quest'utero complemento diagnostico perché in questi casi l'ormone presenta un titolo tendenzialmente aumentato, elevatissimo, come in questo caso. E ricordiamo che nel management il ruolo del dosaggio sarà utile anche per valutare la remissione della patologia dopo lo svuotamento uterino fino al suo azzeramento. In questo caso ribadiamo che i valori elevati di beta HCG anche dopo lo svuotamento richiederanno un monitoraggio in epoca successiva perché ove non si tenderà a un azzeramento occorrerà attuare il trattamento chemioterapico. Nel frattempo stiamo vedendo la tipica vascularizzazione che interessa tutta la massa del tessuto endogeno. perfetto signori, penso che questo sia un caso emblematico perché di primo acchitto si può pensare a una gravidanza semplicemente abortiva e non a un'evoluzione come vedete qua verso la mola. Grazie colleghi.